Buongiorno a tutti, benvenuti, buon sabato. Chi governerà la città è il tema di questo confronto che abbiamo voluto organizzare per la città per far conoscere i programmi dei quattro candidati alla carica di sindaco per la città di Udine. Pronostici, illusioni, speranze, quelle le lasciamo a voi. Abbiamo voluto creare invece questo momento di informazione per voi, per la città, per i nostri lettori. Questo evento sta andando in questo momento in diretta streaming e ci sono già alcune persone collegate che lo stanno seguendo, più tardi vi sapremo anche dire in quanti siamo oltre a questa bella platea. Fa piacere vedere che siete in molti questa mattina, perché parlare di politica, dei problemi della città non sempre ci sono delle risposte. Vedere che invece c'è il palamostre così affollato ci fa davvero piacere. Ringraziamo l'amministrazione comunale e il CSS che ci ha dato ospitalità e saluto chi ci sta seguendo in diretta streaming sul nostro sito messaggeroveneto.it Ok. A questo punto chiamiamo i protagonisti che sono appunto i quattro candidati seguendo l'ordine del sorteggio che ha decretato la posizione sulle schede elettorali. Quindi cominciamo con Pietro Fontanini che è sostenuto dalla lista civica Fontanini, sindaco, la Lega e Fratelli d'Italia, identità civica, Forza Italia, non è di centro. Poi c'è Alberto Felice Dettoni. Lista civica. Dio che l'ho creato. Ok. Grazie. Lista civica Dettoni, sindaco, il Partito Democratico, Azione, Italia Viva, Renew Europa, Alleanza Verdi e Sinistra. Quindi Stefano Salmè, liberi elettori e io amo Udine e Ivano Marchiolo. La sua candidatura è sostenuta da Spazio Udine, Udine Città Futura, Movimento 5 Stelle. Allora io vi ricordo le regole di questo confronto. I candidati, con i candidati le abbiamo condivise nei giorni scorsi, però le diciamo a voi perché è importante che poi le sappiate. E comunque le ricordo anche ai candidati. Sono semplici. Avrete un minuto e mezzo per rispondere alle domande che saranno uguali per tutti. C'è il timer davanti a voi che segna il conto alla rovescia, quindi vi chiediamo di rispettare i tempi. Avrete un minuto per l'appello al voto finale e poi per dare un po' di vivacità. Ci siamo inventati i giolli, ne avete due a testa e di un minuto l'uno potrete giocarlo quando volete. Date indicazioni a me o a Renato perché volete intervenire, poi noi vi daremo la parola. Il giolli serve per replicare a un altro candidato che volete precisare alcune cose oppure intervenire in un dibattito che ritenete di dover specificare ancora alcune cose. Vanno spesi ovviamente al termine del round di ogni risposta. Come vi dicevo a controllare il tempo c'è il timer e sarà tutto molto come dire scadenzato dal tempo che vi chiediamo nuovamente di rispettare e comunque se non le rispetterete al termine c'è un gong o più o meno insomma ci sarà un segnale che non ho capito. Sembra un po' la cassa del supermercato o la stazione ferroviaria, però lo riconoscerete. Allora per cominciare direi che partiamo con una presentazione, cioè vogliamo sapere per chi siete, perché vi siete candidati, quali sono le vostre priorità. Le risposte, in questo caso abbiamo fatto un sorteggio poco fa, parte Salmè, quindi Dettoni, Fontanini e Marchioni. Parola a Salmè. Nato a Udine, già consigliere comunale nel 95, presidente del quartiere di Udine Est di Giusto, giornalista pubblicista. Scusa un attimo però vedo che non sta partendo il tempo. Ci siamo? Vai. Arrivato in storia all'Università di Trieste con una tesi sul risorgimento friulano che riguardava sia la città di Palmanova che la città di Udine. Assistente parlamentare di un deputato europeo, libero professionista. Ho creato e dirigo il giornale di Udine, un giornale online. Insomma, questo. Amo molto la nostra città. Non è la prima volta che mi cambio sindaco, questo lo sanno tutti. Abbiamo inteso proseguire il lavoro fatto cinque anni fa per completarlo e lo completeremo. e quindi è un contributo che io, che noi vogliamo dare alla città. Ci crediamo molto. Noi crediamo che ci debba essere una parentesi di almeno cinque anni di un governo civico sganciato dai partiti perché, insomma, crediamo che negli ultimi 15 anni i partiti abbiano dato il peggio di sé, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello nazionale. E quindi ci proponiamo come un'alternativa, come un vero cambiamento. Tutti parlano di cambiamento, ma il cambiamento non è un fatto anagrafico. È un fatto di programmi. Le città sono un luogo di innovazione sociale. Questa innovazione sociale, purtroppo, non c'è stata a Udine. E noi siamo in forte ritardo rispetto agli altri capologhi della regione, in primis rispetto a Trieste. Grazie. De Toni, aspetti che parte il timer. Ok. Allora, bentrovati, bentrovati a tutti. Io sono nato a Curtarolo, un paesino a nord di Padova, nel 55. Sono sposato, ho due figli adottivi, che adesso hanno 30 anni e 27. Le abbiamo adottate a 3 a 6 anni. Provengo da una famiglia popolare. Mio papà e mia mamma facevano i certi e avevano la quinta elementare. Io devo ringraziare lo Stato italiano, l'istruzione pubblica, perché ho potuto fare prima lecceo scientifico e poi ho fatto ingegneria, fatto ingegneria chimica. Nell'80 mi sono laureato, sono andato a Milano, all'anno di ricerche. Ho lavorato 4 anni e quando, nell'84, hanno attivato il primo ciclo in Italia del dottorato di ricerca, mi sono licenziato e ho ricominciato, come direbbe Proisi, non da zero ma da tre. Mi sono messo a studiare, ho conseguito il titolo di dottore di ricerca in scienza e in azione industriale. Poi sono arrivato qui a Udine e ho fatto carriera, facendo prima il preste, poi il rettore e poi ho guidato alla rete dei direttori italiani. Per quanto riguarda lo sport, da ragazzo facevo basket, dal mini basket ho poi giocato in promozione, che era la quinta serie all'epoca. Come hobby, oltre a sciare, giocavo anche a scacchi, ho tre coppe a casa degli amatori. Adesso cambia il paradigma, entro in una nuova dimensione, speriamo vi porti fortuna. Allora sono nato a Udine, vivo questa città da tanti anni, ho studiato allo Zanon, mi sono diplomato ragioniere, poi ho fatto l'università a Trento, mi sono laureato in sociologia, ho vinto i concorsi per l'istruzione secondaria di secondo grado, ho insegnato nell'istituto Stringer, materie economiche e poi ho iniziato la mia carriera politica. Prima come consigliere provinciale, poi ho fatto l'esperienza a Roma come senatore e deputato per tre legislature e nel frattempo ho fatto anche il sindaco di Campoformido per nove anni, poi mi sono candidato alla guida della provincia di Udine e per dieci anni ho guidato questo ente che poi la sera Chiani ha deciso, unica in Italia, di abolire e siamo l'unica regione in Italia a non avere le province, un grave danno per la nostra collettività e soprattutto per la rappresentanza di un territorio friulano che non ha più questa rappresentanza forte. Poi cinque anni fa mi sono candidato sindaco a questa città e sono risultato vincitore e da cinque anni guido la città di Udine e vorrei continuare questa esperienza perché ritengo di aver cambiato molto la città, di averla riportata a quelle condizioni ottimali che storicamente Udine deve avere. Non voglio quindi questo cambiamento si fermi, dobbiamo continuare perché Udine è una città importante ed è la capitale del Friuli. Ivano Marchiol Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, io sono Ivano Marchiol, ho 40 anni, nato a Udine, vivo a Udine e lavoro a Udine. Mi sono laureato in Scienze Internazionali Diplomatiche, quindi la politica è sempre stata una passione, ma è una passione che ho riscoperto nel 2018 dopo che il sindaco Fontanini ha deciso di riaprire al traffico il centro delle auto e quindi ho pensato di impegnarmi direttamente per una proposta referendaria che poi ha portato appunto alla pedonalizzazione di mercato vecchio. Dal mio incidente ho imparato che è nello spazio urbano che si affermano i diritti o si nullificano i diritti ed è nello spazio urbano che c'è la qualità di vita dei cittadini. Per questo motivo da allora si è formato un gruppo che ha voluto ragionare in maniera coerente e complessiva su tutta la città e ha sviluppato partendo dai quartieri 65 proposte progettuali per restituire lo spazio alle persone, consapevoli di una cosa, che i luoghi come le persone sono collegati tra loro e quindi è indispensabile avere un progetto complessivo di città, avere una visione coerente. Questo l'abbiamo fatto in cinque anni di lavoro con un nuovo modo di far politica che è sedersi attorno a un luogo, attorno a una questione, ascoltare, mettere a disposizione le competenze e arrivare a una proposta di soluzione. Questo è quello che noi voglio portare in Palazzo d'Aronco in veste di governo. Prima di partire con la domanda successiva mi scuso perché c'è stato un errore con i simboli che abbiamo proiettato che riguardano Stefano Salmè e chiedo alla regia, prima di proiettarli, di fare una verifica con alcuni colleghi della redazione che sono qui in modo da degli esatti altrimenti li togliamo per cortesia. Grazie. Allora partiamo con le otto domande Fontanini, partiamo con la prima riguardo alla cultura e il turismo. Udine è la città del Tiepolo ma è anche la città di Friuli Doc. Quali sono gli obiettivi che lei si dà per i prossimi cinque anni per potenziare il capoluogo sotto questi aspetti? Mostre di alto livello, eventi popolari e come si attirano i turisti? Soprattutto con le mostre di alto livello, ne abbiamo già sperimentata una, si intitolava Insieme, abbiamo avuto 55 mila visitatori, non era mai successo per la città di Udine, adesso è partita la seconda mostra, si intitola Insieme, pensiamo di raggiungere l'obiettivo di 75 mila visitatori e questo è importante perché è ricaduta poi sulla città, la ricaduta nei confronti dei ristoratori, dei commercianti, di coloro che vogliono conoscere la città di Udine. Poi il Tiepolo, sul Tiepolo stiamo investendo, abbiamo rinnovato la sala dedicata a lui in Castello, nella Pinacoteca, ma siamo inseriti in quella che è la rete delle città del Tiepolo, una rete europea che vuole valorizzare questo grande pittore che ha lasciato a Udine opere molto significative. Questo è importante perché Udine sta diventando sempre più una città turistica, fa parte dei circuiti, soprattutto del mondo tedesco, sia Germania che Austria, turisti che non solo arrivano con il pulmo ma arrivano anche in bicicletta, grazie all'Alpe Adria, un acciclabile che mi onoro di aver realizzato da Presidente della provincia in gran parte perché è una intuizione fondamentale quella di puntare su questo tipo anche di turismo e stiamo potenziando anche l'ex zona del parcheggio, del camping che era qui nella zona del parco del Cormor per realizzare un luogo per ospitare i cicloturisti. Quindi poi c'è il discorso a Imprositi e insomma tante altre realtà che abbiamo fatto. Bettoni. Allora, per quanto riguarda la cultura, io credo che le politiche dei grandi eventi vanno bene, però dobbiamo anche evitare di concentrare la gran parte del budget su un unico evento perché in realtà una rondine non fa primavera. Noi dobbiamo fare una programmazione e un sostegno forte a tutti gli enti, ne abbiamo tanti, associazioni, gruppi, fondazioni culturali. Noi dobbiamo anche fare un passo in avanti e dobbiamo fare come succede ad esempio a Torino dove la fondazione CRT e anche la compagnia di San Paolo investono e spingono per fare start-up culturali perché noi dobbiamo arrivare sostanzialmente ad una produzione di cultura che si autosostenga e chiaro che non è facile, ma appunto bisogna fare un investimento, un accompagnamento e questo secondo me è la via maestra. Poi possiamo lavorare molto anche sul tema della rete museale a partire da quella di Udine, ma abbiamo una rete molto interessante anche in tutta la regione e alla fine sarebbe molto bello lanciare un progetto Udine, città della cultura 20-28, darsi 5 anni di tempo per poter far coordinare tutte quante queste realtà esistenti, aumentare il potenziale perché la corrente passa se c'è una differenza di potenziale elettrico. Grazie. La parola a Stefano Salmè. Sì, avendo già vissuto l'esperienza di 5 anni fa come candidato sindaco, mi fa sorridere il fatto che i politici vanno al governo e dopodiché tornano 5 anni dopo e sembra che non sia successo nulla. perché è incredibile. Allora, questo è un articolo vostro di pochi mesi fa che fotografa le presenze turistiche nella nostra regione. Il titolo era anche Udine, fannalino di coda del turismo regionale, scatta l'ironia, i cartelloni su Romeo e Giulietta ci salveranno. Allora, i risultati del 2022, perché sembra che noi dobbiamo giudicare i politici dall'amministrazione. Allora, Gorizia più 12,9, Pordenone più 9,9, Trieste più 4,4, Udine meno virgola 4,8%. L'ultimo dato, 2022. I politici dovrebbero rispondere di questo e non fare chiacchiere. Per quanto riguarda la nostra proposta, allora Udine nasce, il turismo è legato ovviamente a dove viviamo, al territorio e alla sua storia. Udine nasce, il tumulo, il colle tra l'altro è molto fragile, quindi cerchiamo di preservarlo e non andare a fare il secondo ascensore. Quello è il più grande tumulo della storia d'Europa, ma quel tumulo, quindi di origine artificiale almeno in parte, è diffuso, era diffuso in tutta l'Europa centrale e in tutta Italia. Quindi andiamo, perché nasce dove c'era la via dell'Ambra. Allora, grazie. Scusate, poco tempo. No, la ringrazio perché comunque parte del tempo l'ha speso per leggere un articolo da Messaggero Veneto. Poi, visto che ha chiamato in causa i suoi competitor, se poi lo vorranno, ricordo che hanno il jolly. Marchion? La cultura nel nostro programma è un motore fondamentale, che vuole essere un motore fondamentale di rinnovata socialità, ma anche economico. Ho solo un minuto e venti, è veramente un tema complesso, io ci lavoro anche su questo argomento, ma per semplificare direi che noi vogliamo agire sicuramente a due livelli. Un livello è quello delle valorizzazioni, delle eccellenze del territorio. Io penso a fare, ne cito solo alcune, quindi mi scuseranno quelle che non riesco a citare, fare i sfinfesti dal vicino e lontano, le rassegne teatrali, il palio studentesco, per dare il massimo sostegno e promozione da parte del comune. Dall'altro, in parallelo però, è indispensabile agire con una cultura diffusa e partecipata nei quartieri, quindi un calendario fisso che leghi la cultura, la socialità e la rigenerazione urbana, alla rigenerazione culturale e sociale dei quartieri. Questo per noi è fondamentale. Mi leggo velocissimamente al turismo. È vero, abbiamo un grande filone di turisti che vengono attraverso l'Alpe Adria, che nel comune di Udine o in parte non c'è, o entrati insicuri, o è addirittura sui marciapiedi, addirittura davanti alle scuole. Questa è la situazione reale che c'è nel comune di Udine, che è scollegato e noi invece vogliamo collegarlo, magari con una carta del turista, con una carta bicycle card, tirando dentro ovviamente Confcommercio e Confesercenti per veramente riuscire a rilanciare. Parliamo di scuola, università e sport. I servizi scolastici in capo all'amministrazione comunale danno le risposte adeguate ai ragazzi e alle loro famiglie. Quale ruolo deve avere l'amministrazione comunale per supportare fare di Udine ancora più una città del sapere in collegamento con l'Ateneo? I servizi sportivi, gli impianti rispondono alle esigenze di una città che cambia parte dei toni? Allora, Udine ha delle eccellenze in tutto il sistema scolastico, a partire dalle scuole dell'infanzia fino all'università, poi anche al conservatorio, poi all'ITS e quindi ha delle scuole superiori di grande prestigio e quindi il tema dell'istruzione è sicuramente un tema fondamentale, abbiamo in mente la città dei servizi avanzati e quindi questo è un punto centrale. Lo sport è una grande risorsa educativa, abbiamo un sacco di associazioni bilettantistiche sportive che hanno problemi sia di bilancio ma anche di strutture e quindi ben venga un investimento come è stato annunciato sul Carnera, però non possiamo dimenticare tutto il mondo dilettantistico. Per quanto riguarda la cittadella dello sport che è quella che si sta configurando nella zona stadio, dobbiamo risolvere il problema del stadio 2.0 che è rimasto fermo, c'è una conferenza di servizi che non è mai decollata, dobbiamo immaginare un'integrazione tra i due progetti e quindi questo è sicuramente una delle cose più importanti da fare. L'istruzione e lo sport sono due grandi strumenti anche per creare cittadinanza, creare libera coscienza critica, comunità e quindi io credo che questo sia uno dei punti centrali su cui la prossima amministrazione comunale dovrà puntare. Stefano Salmè Noi abbiamo vissuto nel periodo pandemico una difficoltà, questa è una nostra opinione infatti che noi proponiamo, ossia il fatto che il pensiero critico era sostanzialmente scomparso sia dai mezzi di informazione ma purtroppo anche nelle scuole. Noi abbiamo proposto, è la prima proposta del nostro programma, una modifica allo Statuto del Comune di Udine dove si dirà, si reciterà che c'è un principio della libertà di scelta, della libertà di autodeterminazione della persona principalmente nel campo della salute e nel campo dell'istruzione. Per quanto riguarda il campo dell'istruzione noi vogliamo promuovere e sostenere le scuole parentali che secondo noi sono delle oase di libertà, delle oase di libertà che esistono, che la Costituzione italiana riconosce, che la legge riconosce e per quanto riguarda le scuole parentali ce ne sono anche a Udine, la prima istituzione che deve vigilare è proprio il sindaco e poi i dirigenti scolastici. Però il sindaco per quanto ci riguarda non svolgerà una funzione di tipo repressivo ma la vigilanza servirà ad aiutare economicamente, logisticamente e socialmente queste realtà. Bisogna stare attenti, ovviamente noi siamo a favore anche delle scuole paritarie perché una questione è l'educazione, la scuola pubblica, le scuole paritarie, le scuole parentali devono ovviamente avere una base comune di educazione civica ma devono essere tutte quante sviluppate. Andare a scuola è un modo per educarsi ma è anche un modo per imparare a stare in società. Quindi per noi la formazione ed educazione è un tema primario che riguarda le ragazze e i ragazzi ma riguarda nel complesso l'intera società. Anche qui in un minuto e sedici è veramente complicato ma voglio dire velocemente due cose. Uno, nelle scuole mettere educatori per rilanciare e aiutare i soggetti in condizioni di fragilità e rilanciare i progetti interculturali nelle scuole. Questa per noi è una priorità. Due, fare quella che noi definiamo scuola porosa cioè aprire la scuola alla città e viceversa. Noi sappiamo che i ragazzi hanno una gravissima carenza di spazi per fare musica, per fare cultura, per trovarsi. Perché non utilizzare alcuni spazi scolastici a questo fine? E io dico anche perché non fare magari un accordo addirittura tra le scuole e l'università per andare in questa direzione. Lo sport di tutto questo partendo dalle palestre è un tema fondamentale e noi lo leggiamo soprattutto come promuovere Udine quale capitale dello sport giovanile e dello sport inclusivo. Lo abbiamo anche inserito in diversi i nostri progetti di rigenerazione urbana partendo da Piazza Primo Maggio per arrivare al Parco Moretti e così via perché noi sappiamo che dove metti sport metti integrazione e metti presidio sociale delle persone e quindi è così che si può portare un miglioramento complessivo per tutta la città. Grazie, grazie. Pietro Fontanini. Beh innanzitutto dobbiamo rendere sicuri i luoghi dove si studia. Udine è una città sismica come sapete purtroppo dobbiamo intervenire e stiamo intervenendo e siamo già intervenuti in molte scuole. Il prossimo cantiere importante sarà la scuola Dante che è una scuola stata costruita prima della prima guerra mondiale ma che chiaramente non ha tutti i requisiti antisismici. Quindi questo è un impegno che stiamo portando avanti ormai da anni con finanziamenti importanti e creiamo anche nuove strutture. Una importantissima sarà nella zona di via Cevidale all'interno della caserma Osopo dove stiamo realizzando una scuola per l'infanzia è un asilo nido perché anche qui dobbiamo essere vicini alle famiglie, dobbiamo aiutare i genitori a avere dei servizi all'altezza per quanto riguarda proprio la formazione dei propri figli. Ecco perché puntiamo molto anche sugli asili nido, sulle convenzioni con le scuole private perché anche questo è un patrimonio da tutelare all'interno della città. Per quanto riguarda lo sport, come avete sentito, siamo partiti con il nuovo Palasport Carnel, Carnel a 4.0, un Palasport da 7.000 posti perché purtroppo la città è stata così privata di una struttura importante non solo per i grandi avvenimenti sportivi ma anche per gli spettacoli. Quindi un contenitore che sarà importante proprio per permettere a tanti artisti di tornare a Udine e far vedere i loro spettacoli. Allora partiamo con la terza domanda Stefano Salmè, partiamo da lei. Il tema che adesso comparirà alle nostre spalle è mobilità e piste ciclabili. Ecco secondo lei la città è servita in maniera adeguata con i servizi pubblici. Ci sono dei quartieri lasciati a immagini o che comunque hanno una necessità di un potenziamento del trasporto pubblico e come rafforzare questo tipo di trasporto ma tenendo conto anche della necessità delle piste ciclabili. E secondo lei il tema dei passaggi a livello come pensate di risolverlo? Beh allora io ho sostenuto anche quando ero presidente del quartiere e appunto la diciamo l'eliminazione della tratta ferroviaria esterna e quindi con l'eliminazione dei passaggi a livello ho promosso quella petizione, l'ho fatto politicamente e per noi lungo quando sarà finalmente dismessa mi pare che oggi si è annunciato appunto l'intenzione di farlo, non so non mi ricordo, ma era già cinque anni fa questa promessa, quando verrà effettivamente dismessa lì verrebbe appunto una ciclopedonale fantastica. Noi poi ne vogliamo realizzare una seconda, secondo noi sarebbe molto bella, un bel progetto lungo quella linea della Maiano-Udine, sarebbe veramente un tratto, c'è la Gran Selva lì a Udine Nord, è veramente un posto fantastico. Dopodiché noi crediamo che la mobilità non si debba mettere ciclisti contro automobilisti, quindi noi per esempio riteniamo che si debba ritornare alla vecchia linea dell'Uno che univa appunto la stazione a Udine Nord, ovviamente non si passerà per via Mercato Vecchio, ma noi riteniamo che si debba di nuovo passare per via Quileia, poi si farebbe il tratto di via Vittorio Vento, via Manin, in piazza Primo Maggio, via Giovanni d'Udine per ritornare a riservire anche via Gemona. E poi appunto non devono essere demonizzati gli automobilisti, allora va benissimo il mercato coperto in piazza Vente Settembre se ci saranno i fondi, crediamo che sia un progetto interessante, ma fino a che non sia realizzato, che possano ritornare le auto nella sera per dare una mano alle attività commerciali. Grazie. Marchion? Allora direi che occorre mettersi, mettere la città al passo con i tempi, quindi creare ordine nella mobilità significa dare a tutti i mezzi il giusto equilibrio, oggi non è così. Oggi lo spazio pubblico è indirizzato in maniera preponderante esclusivamente al traffico automobilistico in città, questo crea gravi danni, noi diciamo che deve essere incentivato chi può non andare in automobile per utilizzare mezzi più puliti, più sicuri, quindi questo passa attraverso una revisione delle tratte del trasporto pubblico locale che sono ferme agli anni 90, questo significa creare una rete di piste ciclabili vere, in questi decenni a Udine noi non abbiamo una rete di piste ciclabili, sono state costruite le ciclopedonali appena citate che sono profondamente sbagliate e sono risorse pubbliche sprecate, quindi occorre riuscire a restituire lo spazio in maniera logica e organizzata, anche qui sul nostro sito trovate una pluralità di risposte e per far questo un modello c'è e noi sappiamo applicarlo a Udine che è il modello città 30, quello è il modello che noi vogliamo applicare in città che non significa mettere 30 all'ora indistintamente in tutte le vie, significa mettere il 30 all'ora nelle vie residenziali, nelle vie urbane, non quelle ad alto scorrimento e questo ti consente di recuperare spazio da restituire al trasporto pubblico, al trasporto pedonale e al trasporto ciclabile, è vero. Grazie. Fontanini. Allora, il comune di Udine si è dotato del biciplan, nessuno l'aveva mai fatto ed è la programmazione delle piste ciclabili in città. Noi abbiamo realizzato già un paio di piste ciclabili, ricorda quella che porta in pratica della zona di Laipacco, stiamo programmando e siamo già a buon punto per fare una che da San Rocco arriverà a Villa Primavera e una che arriverà a Lumignaco e una a nord che ci collegherà con Feletto. In questo modo si incentiva il trasporto leggero, soprattutto i giovani possono usare questo mezzo per venire in città, per andare a studiare, per frequentare il centro della città. È un modo moderno e su questo siamo molto, molto motivati affinché questo modello vada avanti e trovi sempre più accoglienza e soprattutto tanti fruttori. In alcune zone è difficile realizzare le piste ciclabili, bisogna convivere in pratica sia con i pedoni che con gli automobilisti. Però abbiamo già individuato questi assi importanti e fondamentali per rendere la città più percorribile e soprattutto più a dimensione del ciclista. Ricordo avevo prima l'Alpe Adria, un grande asse che porta tanti ciclisti. Io spero che sempre più gente utilizzi questo mezzo che chiaramente non inquina e che soprattutto fa fare anche un po' di moto, di ginnastica a tante persone per migliorare la qualità della vita. Chiudiamo il giro con De Toni. Allora, per quanto riguarda la mobilità urbana, le ipotesi sono ad esempio zero semafori. Lo fanno in altre città, possiamo farlo anche noi. Poi, in effetti, l'utilizzo della zona 30 all'interno del ring potrebbe essere molto estesa e quindi potrebbe essere un sistema estremamente potente per facilitare dopo l'uso delle ciclabili, eccetera. Poi abbiamo il tema dei trasporti urbani. Dobbiamo rivedere le tratte, che in effetti è vero, sono vecchie. Bisogna rivedere le percorrenze, bisogna vedere le frequenze, i collegamenti con i quartieri. Poi abbiamo anche il tema dei trasporti, cioè della viabilità extraurbana. Cioè, la nostra città vede la presenza giornaliera di persone che vengono da Tarcento, da Palmanova, da Caudroipo fino a Cividale. Noi dobbiamo immaginare una rivisitazione di tutto il tema della mobilità extraurbana. Io vi ricordo il famoso Trambianco che arrivava a Tarcento. Noi dobbiamo immaginare un sistema nuovo che guarda avanti i dieci anni. E poi, sul tema delle ciclabili, io ricordo il Trentino che dice, respira, sei in Trentino. Perché non immaginiamo, visto il territorio meraviglioso che abbiamo, pedala sei in Friuli. Le ciclabili, anche extra cittadine, devono diventare tramite la continuità un punto di forza della nostra regione. Grazie. Grazie. Ivano Marchiol si gioca uno dei suoi due giolli. Sì. Un minuto. Io sono estremamente... Il timer? Adesso lo aggiorniamo, sì. Io sono estremamente preoccupato del pressapochismo e della faciloneria con cui si parla di queste cose. L'Aipaco non ha una pista ciclabile. È stata fatta l'ennesima ciclopedonale su metà via, profondamente sbagliata. E quindi non si tratta di continuare a ripercorrere gli stessi errori che hanno bloccato Udine in tutti questi anni. E noi invece, con un modello reale, che è quello della città 30, possiamo anche ottenere l'obiettivo Vision Zero, zero morti sulla strada. Ci dimentichiamo che la provincia di Udine, voglio dire al sindaco Fontanini, è decima in Italia come morti sulle strade. Quindi ecco, a noi non serve immaginare, a noi serve concretezza e capire cos'è una ciclopedonale, cos'è una ciclabile vera o come si fa il traffico condiviso, che si può fare con le corsie ciclabili, portando veramente a 30 all'ora le automobili, rigenerando la conformazione delle strade. Questo a Udine non è mai stato fatto in questi anni e questo pressapochismo non aiuta. Voglio ribattere a Marchiol, all'amico Marchiol. Allora il biciplano è stato costruito non dai amministratori comunali, ma è stato costruito dai tecnici, con cui ci siamo confrontati. Abbiamo individuato, hanno individuato loro queste nuove linee, questo modello per procedere e realizzare queste pizze ciclabili. Tra l'altro non sono decisioni, ripeto, degli amministratori, ma gli amministratori le hanno sposate, le hanno provate. Oltre al biciplano c'è anche il PEBA, un altro strumento che il Comune non aveva e che noi abbiamo realizzato. Anche questo è un modo per programmare e verificare dove ci sono punti che impediscono la libera circolazione, soprattutto delle persone che hanno handicap. E quindi anche su questo stiamo andando avanti. Abbiamo già stanziato 500 mila euro per quanto riguarda il superamento di tante barriere architettoniche. Continueremo su questo modello, con però dei programmi ben precisi fatti da tecnici e non da politici. Grazie. Allora, la quarta domanda. Parliamo di famiglia, sanità e welfare. Udine, città delle famiglie, è difficile conciliare i tempi dello studio con quelli del lavoro, organizzare e offrire i servizi. Nei vostri programmi, scusate, c'è una risposta alle esigenze delle giovani famiglie? L'amministrazione comunale può incidere con la regione per il potenziamento dei servizi? Qual è la rete di welfare che immaginate per le pensioni più anziane? Parte Marchioli. Qui gli argomenti sono veramente enormi. In effetti, un minuto e mezzo, poi è un po' più. Allora, sicuramente... Ci giochiamo il jolly. C'è molto che il Comune può fare in riferimento alle famiglie. Uno dei nostri punti fondamentali è la coniugazione dei tempi di cura e di lavoro e quindi migliorare i servizi di preaccoglienza e postaccoglienza, che peraltro sono anche un momento educativo per i nostri ragazzi, per ragionare appunto sui tempi e sull'autonomia dei soggetti, in questo caso dei ragazzi, ma penso anche agli anziani e quindi rinnovare e potenziare il servizio Nola Solitudine per aiutare le associazioni che effettivamente offrono dei servizi. Io dico una cosa in più. Anche le persone con disabilità, noi dobbiamo mettere dei protocolli per abilitare nell'inserimento sociale, nel lavoro, le persone con disabilità e in questo modo aiutare le famiglie. Voglio però chiudere, visto che ha citato il welfare. È indispensabile il welfare generativo, ma non siamo nei primi anni 2000. Siamo nel 2023, siamo in una situazione di gravissima crisi economica e di spinta inflattiva, per cui sono necessarie anche misure di welfare assistenziale a fianco a quello generativo. Noi pensiamo al bando affitti, a livello nazionale scadrà il prossimo anno, il Comune deve dotarsi di uno strumento che aiuti da un lato le famiglie che hanno bisogno ad affrontare questa spesa, dall'altro tuteli i proprietari da eventuali morosità, chiaramente. Fontanini. Ma su questo settore noi facciamo degli investimenti precisi, vi ho detto prima dell'asilo nido, bisogna realizzare delle strutture che diano risposta a un problema molto sentito, che è quello proprio della prima infanzia. Quindi permettere alle donne di poter continuare l'esperienza lavorativa e anche al papà. Abbiamo quindi programmato questi grossi interventi. Poi anche piccole cose, ad esempio abbiamo già messo a disposizione dei genitori che hanno bambini fino ai tre anni, la possibilità di parcheggiare gratuitamente in alcune zone della città, magari in vicinanza degli ambulatori, in vicinanza delle farmacie. Questo è un modo per stare vicino alle famiglie. Chiaro, c'è necessità di fare pre-accoglienza, post-accoglienza, i dopo scuola, sono tutti momenti importanti per dare un aiuto concreto alla gente. Ricordo che il Comune di Udine spende un bel po' di soldi a favore delle persone più disagiate, delle famiglie in difficoltà, c'è il buono affitti, c'è il buono spesa. Ci sono tutte queste misure che danno senz'altro un contributo significativo in momenti difficili. Però dobbiamo essere attimisti. La città di Udine non è una città abitata da poveri, ma da persone che hanno un reddito medio abbastanza buono e quindi possono fronteggiare questa situazione economica senza grandi difficoltà. Quindi dobbiamo essere ottimisti e guardare con speranza il futuro. Dettoni. Allora, per quanto riguarda il tema ospedale, sappiamo qual è il problema. Pronto soccorso e liste d'attesa. Secondo me, capisco che il sindaco dello stesso partito rappresenta la regione, però c'è un ruolo istituzionale che va svolto e quindi secondo me il sindaco non può rimanere inerte di fronte a una situazione di grande problema. Per quanto riguarda, diciamo, abbiamo problemi adesso con i medici di base. Ho incontrato recentemente una signora che non c'è più il medico di base a Bay Vars, bisogna andare in centro, c'è un problema di trasporto. Quindi c'è il problema non banale anche di medici di base. Per quanto riguarda il tema dei bambini e delle famiglie, abbiamo bisogno di asili nido, c'è il tema della prea post-coglienza, noi abbiamo proposto un welfare di condominio, vedi la tata al bisogno, poi abbiamo tutto il problema dell'invecchiamento attivo, abbiamo tutto il problema delle coppie giovani, quindi ben venga un'azione di interfaccia o di politica dell'IMU per favorire le giovani coppie l'affitto e l'acquisto e poi abbiamo anche il problema del disagio giovanile e quindi dobbiamo lavorare molto su quello perché purtroppo la pandemia ha creato situazioni di gravi problemi su alcune fette di giovani e sulle loro famiglie. Grazie. Quando si parla di famiglie, spesso a livello nazionale si è parlato di quoziente familiare, il quoziente familiare però non molti sanno che la prima volta che è stato applicato è stato fatto a livello comunale, era il 2009 a Parma, cosa vuol dire? Che bisogna modificare l'indicatore ISEE tenendo conto del numero di figli ed eventualmente di persone disabili o anziane che vivono nel nucleo familiare. Questo è il quoziente familiare e si può fare, si deve fare a livello comunale, noi lo vogliamo fare. Dopodiché abbiamo proposto un bonus di natalità di 10.000 euro in buoni d'acquisto locali, uno dice ma 10.000 euro sono 6 milioni di euro in un anno, sono nati poco più di 600 bambini in tutto l'anno, si vogliono spendere 14 milioni pubblici per fare un nuovo palazzetto, io credo che sia molto meglio far nascere dei bambini. Tra l'altro questi 10.000 euro verrebbero erogati in buoni di acquisto locali che quindi rimarrebbero in città, dovrebbero essere spesi in città e solo nella piccola impresa perché metteremmo il requisito della sede fiscale in città. Perché non si fa? Perché non si vuole contrariare alcune multinazionali del commercio che sono in città. Questa è la realtà. E infine noi siamo l'unico partito che ha fatto un capitolo a sé chiamato sindaco primo garante della salute del cittadino. Allora un po' di tifo va benissimo perché comunque insomma è anche si scalda un po' il... però intervenire dalla platea e parlare con chi sta parlando non è rispettoso neanche per chi sta qui perché insomma ha bisogno anche di un attimo di concentrazione per dire quello che vorrebbe. Allora abbiamo finito Renato le prime quattro domande. Ricominciamo il giro capovolgendo l'inizio. Cominciamo da lei Marchiol. Il tema adesso è la sicurezza. Allora è una domanda della quale vi chiedo per cortesia di essere anche sinceri. non soltanto di dare delle ricette perché comunque c'è una sicurezza reale o una sicurezza anche percepita in città. Quindi la domanda è facile che vi abbiamo preparato e è anche semplice ed è anche molto diretta. Vi chiedo appunto di essere sinceri. Secondo lei Udine è una città davvero poco sicura. Come valuta la situazione per esempio di Borgostazione? Allora ci sono due livelli. La sicurezza reale, l'ho accennato, la sicurezza reale e la sicurezza percepita. Entrambi questi livelli sono fondamentali però ce lo dobbiamo dire. E quindi Udine com'è in termini di sicurezza? È molto diversa a seconda dei quartieri. Questo succede. E io credo che il comune di Udine debba fare quello che non ha ancora mai fatto fino ad oggi. Cioè fare il suo mestiere da quel punto di vista stante le competenze che ha. E dunque creare quartieri con presidio sociale e vivibili in cui ci sono le persone, si mette una luce sulle componenti positive. Ciò permette alle forze dell'ordine di svolgere la normale attività di controllo in quei contesti. Come si fa? All'interno del nostro programma è prevista la volontà di creare un assessorato alla coesione sociale che ha questo compito. Creare tavoli nei quartieri in cui mettere dentro il comune, i residenti, le forze dell'ordine, le associazioni per capire assieme come rigenerare lo spazio urbano del quartiere, che attività di presidio sociale mettersi e avviare in maniera stabile, anche attraverso l'utilizzo delle cooperative, le campagne di prevenzione. Perché noi sappiamo che il tema della sicurezza molto spesso è legato appunto a situazioni che possono essere quelle dello spazio di droga e via discorrendo. Quindi questo è il modo in cui noi intendiamo intervenire. Salmè? Allora, intanto sul tema della sicurezza si fa molta campagna elettorale, ma poi i politici quando vanno a governare non passano dalle parole, dalla propaganda ai fatti. Questa è una premessa secondo me necessaria. Allora, noi abbiamo proposto, secondo noi, quello che può fare il comune, la polizia locale, è il presidio del territorio. Quindi noi abbiamo detto bisogna dare veramente attuazione a quella figura che viene chiamata l'agente di quartiere. L'agente di quartiere, gli agenti di quartiere, devono presidiare il territorio, devono parlare con i cittadini, devono parlare con gli operatori commerciali delle zone più in difficoltà, raccogliere informazioni e poi risolvere i problemi. Attenzione, quando si va in borgo a stazione, e io ci vado, noi abbiamo candidato il Presidente del Comitato di Via Roma, la sicurezza non viene richiesta solo dagli italiani, ma viene richiesta dagli italiani e dagli stranieri, dagli operatori commerciali italiani e dagli operatori commerciali stranieri, perché la sicurezza è il primo requisito che sostanzia uno Stato, che sostanzia le istituzioni. Quindi non ci sono distinzioni tra italiani e stranieri, però non possiamo negarci il fatto, notizia di qualche giorno fa, che addirittura hanno arrestato due extracomunitari al Parco Moretti, cioè dietro la questura, dietro la questura. Allora un problema c'è e si deve in qualche modo rispondere a questa esigenza reale. Non possiamo chiudere gli occhi davanti al fatto che molti richiedenti asilo vengono qua e per due, tre anni spacciano per fare dei profitti che poi portano a casa loro. Il tema della sicurezza è un tema centrale, noi sappiamo che il sindaco in carica anche nella precedente elezione ha puntato molto su questo punto, però la chiamata dell'esercito recente secondo me è la prova provata che il problema non l'abbiamo risolto, perché siamo in una direzione sbagliata. Mi spiego, l'esercito serve per fare la guerra e noi, l'esercito che c'è in Ucraina purtroppo sta facendo la guerra. Allora, secondo me è quella la direzione sbagliata. La direzione corretta è quello che già negli Stati Uniti fanno e che è quella di una sicurezza partecipata con i cittadini che fanno i gruppi di vicinato. Quella è la soluzione maestra. Poi dobbiamo lavorare anche sulla rianimazione dei quartieri. Ad esempio noi abbiamo la casa, lo studente è chiuso da cinque anni. Perché non facciamo un progetto di cui il comune fa da interfaccia tra chi affitta gli appartamenti e gli studenti che possono abitarlo. E poi noi, dico la verità, noi possiamo mettere anche una stazione come è stata fatta la polizia ma vorrei mettere anche una stazione del comune, vorrei mettere una presenza del sindaco e degli assessorati per manifestare che noi vogliamo risolvere quei problemi. Cioè non c'è soltanto la parte repressiva, c'è anche la parte di animazione e recupero della socialità. Grazie Bertoni. Fontanini. Allora l'esercito è per la difesa nazionale, non va a fare le guerre. Esiste una parte dell'esercito che si occupa della città sicure. Tutte le città in Italia hanno la presenza dell'esercito che dà un aiuto alle forze dell'ordine. Quando sono diventato sindaco io avevo trovato una situazione della polizia locale che è l'organo che dipende dal comune che era stata sparpagliata nei comuni dell'Inter, la famosa UTI. Il numero dell'organico era asseso a 64 persone. Appena diventato sindaco ho riportato la polizia locale alle dirette dipendenze del sindaco, ho fatto tre concorsi e adesso siamo arrivati quasi a 90 agenti di polizia locale e in più li ho dotati di strumenti per poter in pratica fronteggiare un problema della criminalità. Penso che una delle cose più importanti sia stato quello di dotarci di due cani antidroga perché la droga è un problema anche a Udine, nessuno lo nasconde, però se non si adottano strumenti concreti è difficile combattere questo fenomeno. In più il taser, cioè questa pistola elettrica, siamo stati la prima polizia a livello locale a avere questo strumento che aiuta le forze dell'ordine a essere attive, a essere presenti sul territorio. E poi la presenza fisica nella zona della stazione, via Leopardi, di questo posto fisso di polizia locale perché siamo convinti che bisogna stare sul territorio con il potenziamento delle telecamere e tutte queste cose. Grazie. Stefano Salmè, si gioca il jolly. Sì, vedete, lo richiamavo prima, no? Passare dalla propaganda ai fatti. Cinque anni fa sia io che il Sinaco Fontanini abbiamo battagliato sulla caserma Cavarzerani. Io non volevo, non voglio tuttora un centro per chiedenti asilo. Ma lui, come me, sosteneva questo. Oggi alla caserma Cavarzerani ci sono 600 richiedenti asilo e il centro per i chiedenti, dopo cinque anni, è ancora là. All'inizio del mandato del Sindaco Fontanini, questo è quello che dichiarava il suo assessore alla sicurezza, entro fine mandato il campo nomadi di Udine sarà sgomberato, il campo nomadi di Udine è ancora là. Dopodiché si sono fatti grandi investimenti nella sicurezza, si sono comprate le pistole Taser, si è comprato lo Spire al peperoncino, i cani antidroga, che sono stati utilizzati unicamente per delle foto opportunity a scopo propagandistico. Punto, punto. Se noi andremo a governare, passeremo dalle parole ai fatti, perché questa è solo propaganda. Allora, ambienti e rifiuti. Ci siamo? Prossima domanda. Come si può rendere più green Udine con l'emergenza climatica sullo sfondo e la crisi energetica? Il sistema attuale di raccolta dei rifiuti va mantenuto, perfezionato, cambiato? Salmè. Noi siamo per un sistema misto, cerchiamo di prendere il buono del sistema dei cassonetti stradali e il buono che c'è anche nel sistema del porta a porta. Quindi noi abbiamo proposto di tenere il porta a porta per quanto riguarda il secco e l'umido, anche perché abbiamo bisogno di un umido pulito, perché produrremo con l'umido energia nell'impianto che è in via di costruzione e di realizzazione in Viagonarse, e di ritornare ai cassonetti stradali per carta, vetro, plastica e verde, dove non c'era già prima, non c'erano problemi di purezza della raccolta differenziata. Questo ci permetterebbe di risparmiare per i cittadini, perché il porta a porta è un sistema costoso, è inutile che si dica il contrario, ed è un sistema oneroso anche per i lavoratori che lo fanno. I sindacati hanno protestato, i lavoratori hanno protestato, e poi è un problema di oneri indiretti per il cittadino, perché al di là del costo dell'aumento della delattari che c'è stato in questi anni, c'è un aumento indiretto, perché voi sapete che nei condomini la movimentazione, la sanificazione dei cassonetti condominali viene pagata dai condomini. In più, i rifiuti che vengono lasciati nei prati, nei campi, lungo le ciclabili, che noi troviamo tutti i giorni nei quartieri di periferia, quello è un costo indiretto, perché quel costo se lo assume il comune, e quindi ce lo assumiamo noi cittadini. Quindi è un sistema che va modificato, non eliminato, ma modificato. Dettoni? Allora, purtroppo in città abbiamo un problema grave dei rifiuti, che in altre città non hanno, noi ce l'abbiamo, perché? Perché è stata fatta una scelta del porta a porta che è stata estesa a tutte le utenze, non c'è nessuno che fa il porta a porta con i grandi condomini, quindi volendo, cioè noi abbiamo passato quattro anni a imporre il porta a porta anche alle grandi utenze, quindi la soluzione è quella che fanno in tutte le città, si fa in parte porta a porta, in parte l'isola ecologica per i grandi condomini, i cassonetti quando c'è problemi di spazi di prossimità, infine c'è anche il tema, in certi casi, dei cassonetti a scomparsa. Noi abbiamo anche proposto lo spazzino di quartiere, che a Bologna funziona molto, e quindi abbiamo immaginato sostanzialmente una rivisitazione completa del modello. Ecco, non si può affermare che adesso si sta facendo, perché per quattro anni non è stato fatto, adesso sul fatto che c'è una contestazione, improvvisamente bisogna fare tutto quanto adesso, però secondo me abbiamo sbagliato, noi da questo punto di vista è una retromarcia, secondo me bisogna andare nelle direzioni giuste, quando si va nelle direzioni sbagliate, poi bisogna fare una retromarcia, e la retromarcia si va piano, quindi è meglio imboccare la direzione giusta, innescare la quarta, la quinta, se si può anche la sesta. Grazie. Grazie. Fontanini. Nessuna retromarcia, perché tutte le città e tutti i paesi più avanzati che hanno tutela l'ambiente stanno andando verso il porta a porta, perché è un sistema eccezionale per differenziare, per recuperare gran parte dei rifiuti e renderli poi riciclabili come seconda materia. Ricordo che nella città di Udine abbiamo quasi mille ecopiazzole condominali, quindi nei condomini funzionano chi vuole, chi ha volontà di far funzionare la raccolta differenziata a livello proprio di condominio. In alcune realtà non ci sono gli spazi, ecco che allora siamo subentrati noi e continueremo a realizzare delle piccole ecopiazzole per aiutare i condomini a poter conferire in questo modo. Questo modo permette di separare bene i rifiuti, di non portare in discarca che costa moltissimo o negli inceneritori che costa moltissimo, ma di recuperare gran parte di questi materiali. In Viagonarsi a giugno partirà il biodigestore, uno strumento importante per produrre biometano e questo si può fare solo se si fa una raccolta differenziata corretta, perché abbiamo bisogno di materiale pulito, perché questo materiale pulito permette di creare in pratica questo biometano che andrà a alimentare i mezzi pubblici della nette che gireranno sul nostro territorio e produrrà poi anche energia elettrica e spero anche come distributore per chi ha la macchina a metano. Grazie, Marcheone. Anche qui credo che bisogna partire con equilibrio e serietà. Partiamo da un'analisi dell'esistente. Sono stati spesi 6 milioni di euro per dare centinaia di migliaia di bidoncini di plastica ai cittadini udinesi. Pensare di dover sovvertire completamente tutto è una cosa che semplicemente non è corretto fare, ma è stata fatta questa cosa a Udine, mentre l'Università di Udine elaborava un piano puntuale per un sistema misto con il porta a porta in una città straniera. Non ci siamo neanche preoccupati di organizzare uno studio precedente. Allora noi diciamo le competenze ce le abbiamo proprio per ragionare su il posizionamento degli eventuali castelletti interrati e dei bidoncini, i giri ottimali di raccolta perché oggi abbiamo l'umido che rimane fuori fino alle 11 del mattino sotto il sole o il vetro che viene portato fuori alle 4 del mattino durante la notte. Questa è la realtà. Quindi facciamo un tavolo con la NET, con l'Università di Udine per modificare molto in maniera importante questo sistema, ad esempio ovviamente per le grandi utenze, per le aree più urbanizzate. Io dico anche per introdurre un sistema di tariffazione puntuale con riflesso in bolletta per chi produce meno rifiuti. Ci sono comuni che l'hanno fatto come il Comune di Pisa e non solo, piano di deratizzazione e per le zanzare perché con i rifiuti per strada questo è necessario. Va bene. Grazie. Prima di passare mancano ancora un paio di domande prima dell'appello finale. Allora, mi pare che i jolly ne abbiano usati uno a testa, giusto? Sì. Eccetto Detoni che non ne ha utilizzato nemmeno uno. Se li utilizzate va bene non vengono trasformati in lingotti d'oro alla fine quindi se volete potete utilizzare. Saluto invece ci stanno seguendo in questo momento 1600 persone sono collegate con il nostro sito e stanno seguendo la diretta di questo incontro e le salutiamo. Allora, passiamo alla prossima domanda opere pubbliche e periferie. Qui cominciamo da Detoni. Nei vostri programmi contemplate nuove opere o interventi di riqualificazione particolari di alcune parti della città. Si parla molto del centro talvolta poco delle periferie. Ecco, quale sarà la vostra attenzione nei confronti dei quartieri? Beh, allora come opere pubbliche noi abbiamo proposto il collegamento pedonale tra Piazza Primo Maggio e il Castello un intervento secondo noi poco costoso e molto impattante sulla qualità della vita. Poi abbiamo immaginato anche una rivisitazione di Piazza Duomo che secondo noi è risolta. Abbiamo immaginato anche la Piazza del Conservatorio cioè quella di diciamo radere diciamo l'edificio che è lì e creare una zona unica. Abbiamo immaginato anche lì c'è da fare tutto quanto un percorso lungo l'ex-Safau secondo me è una zona fondamentale e lì potrebbe essere una nuova Berlino dal nostro punto di vista. Poi per quanto riguarda altri investimenti ad esempio per favorire il commercio dei piccoli esercizi in molte città italiane sono fatti dei piccoli centri di smistamento che diciamo in centro che possono diciamo favorire e ridurre i costi dei e favorire i piccoli esercizi. Per quanto riguarda l'intervento nei quartieri secondo noi c'è bisogno di spazi di aggregazione diciamo sia ricreativi c'è bisogno anche di potenziare gli ambulatori che purtroppo oggi sono aperti un giorno a settimana due ore al giorno e abbiamo bisogno di creare anche spazi per i giovani e quindi degli investimenti in strutture diciamo anche edilizie e di spazi l'abbiamo previsto anche nei quartieri. Grazie. Fontanini Noi abbiamo a bilancio 63 milioni da spendere in questo 2023 di questi soldi in più significativi saranno gli investimenti per la palestra di roccia nella zona del Casel Mausoppo perché è un'opera che nessuno ha in regione e pensiamo di dare una risposta anche agli sportivi agli appassionati alla montagna e poi servirà anche per addestrare i visi del fuoco e chi deve intervenire in situazioni difficili. Poi un'altra opera significativa che è questa finanziata grazie ai fondi Portsfairs riguarda la casa dell'identità friulana in pratica abbiamo questa villa ereditata dalla provincia che si trova dietro il teatro Giovanni da Udine diventerà luogo proprio per far conoscere che cosa vuol dire essere friulani questo è un altro momento forte che io ritengo importante perché Udine capitale del Friuli deve manifestare con forza anche la sua identità noi siamo una delle minoranze linguistiche più numerose in Italia e quindi abbiamo il dovere anche di rappresentare fisicamente in un luogo quelle che sono le nostre caratteristiche culturali e poi ci saranno tante manutenzioni tante opere abbiamo parlato prima del Palasport Carnera 4.0 è un'altra opera fondamentale che vogliamo fare a favore della città anche noi pensiamo al recupero dell'ex SFAO con Udine 2050 per noi i lavori pubblici le grandi opere sono quelle che migliorano la vita dei cittadini ogni giorno nei luoghi in cui vivono e quindi dal nostro punto di vista la nostra attività di restituire lo spazio alle persone parte dai quartieri senza ombra di dubbio e per questo che ci sono i 65 progetti diffusi in tutta la città però non tutti necessariamente siamo di Udine quindi io faccio due esempi precisi di luoghi che conosciamo tutti Piazza Primo Maggio e Piazza Garibaldi Piazza Primo Maggio è il punto numero uno dei 65 l'abbiamo proposta oltre un anno fa quindi non in campagna elettorale e soprattutto abbiamo fatto quello che deve essere fatto mettere le persone dove devono stare cioè davanti al conservatorio e davanti e davanti alle scuole e non ovviamente lì metterci le macchine e invece non mettere le persone dove l'unico posto in cui ha senso che transitano le macchine è su Viale della Vittoria se si ha un minimo di quadro di contesto si sa che Viale Ungheria è stata fatta negli anni 60 e che è un asse di attraversamento che passa lì del parcheggio per andare alla Ponte Bana quell'asse deve rimanere aperto diventando un Viale Urbano chiaramente altrimenti si incastra la città e quello di cui ha bisogno Udine è un'idea complessiva di come si collegano i luoghi un lavoro serio non un esercizio di stile molto suggestivo ma che incastra la città assolutamente no quindi facciamo le cose seriamente e colleghiamo i luoghi a beneficio di tutti sì mentre Mentre Dettoni farà Udine come Berlino e Fontanini farà il palazzetto 4.0 con 14 milioni di euro pubblici in via Abbazia e Lapacco non ci sono i marciapiedi e le strade hanno i buchi perché questa è la realtà della nostra città dopodiché qual è la nostra idea noi abbiamo perso una grande occasione che non si ripeterà più e che sono quei fondi europei del Next Generation EU che poi sono i fondi del PNRR allora andiamo a leggere che cosa è accaduto da noi in Friuli Venezia Giulia arriveranno 1,3 miliardi a Friuli Venezia Giulia 416 milioni sono stati assegnati al porto di Trieste 80 al porto vecchio di Trieste e addirittura 49 milioni per l'Ovovia che dal Carso dovrebbe poi arrivare al porto vecchio a Udine che cosa abbiamo? la parete di roccia questo è questo è e allora noi di che noi avevamo bisogno di un progetto di un progetto per chiedere i soldi per fare la bonifica dell'ex FAO e fare dell'ex FAO la nuova Udine ormai quel treno è perso irrimediabilmente non si presenterà più con l'occasione che cosa possiamo fare? possiamo chiedere al governo di istituire lì una zona franca urbana ce ne sono decine in tutta Italia dal nord a sud è una zona franca vuol dire che se un'impresa si insedia non paga le tasse per dieci anni in questo modo quell'area diventa attrattiva e la Rizzania da Ecker può investire i soldi per la bonifica grazie grazie Salmè su questa domanda chiede di giocare jolly De Toni quindi portiamo a un minuto ecco prego De Toni allora quando parlando all'ex FAO ho detto che dobbiamo immaginare una rigenerazione urbana come quella che ha fatto Berlino è perché come è successo a tante città italiane vedi anche Torino che ha dovuto reinventarsi quando la Fiat diciamo ha abbandonato Torino io credo che noi abbiamo una grande opportunità abbiamo abbiamo visto che sul SAFAO abbiamo la disponibilità della Decker abbiamo la proprietà della nostra caserma lì in comune abbiamo l'RFI su cui dobbiamo lavorare credo che possa essere una grande opportunità noi dobbiamo avere una visione della città del futuro questa zona è una zona dove possiamo ricostruire Udine immaginate una Udine che ha in centro delle zone bellissime residenziali direzionali e quindi immaginare una Udine dove è bello venire a stare perché è bella e anche c'è salute e cultura allora ottava e ultima domanda prima dell'appello al volto in un minuto e mezzo vi chiedo di descrivere la città che vorreste come immaginate la Udine del futuro scusate parte Fontanini allora Udine è una città sicura una città green abbiamo realizzato già due boschi urbani siamo i primi in regione a aver intuito questa possibilità non quattro piante ma cinquemila piante messe già a dimora e verranno messe altre tremila tra poco nell'ex caserma Piave questi polmoni verdi sono importanti per dare una qualità dell'aria migliore soprattutto ai cittadini residenti e poi una città che accoglie però fa rispettare le regole la regola chi viene ad abitare a Udine che deve conoscere la nostra storia la nostra identità e i valori anche di chi opera da tanti anni nella città e poi una città che sia moderna che fa rivivere il centro storico che fa riabitare in pratica questa zona della città che per tanti anni era stata abbandonata dando forza a chi fa investimenti a chi ristruttura a chi crea in pratica lavoro all'interno della nostra città è un modo poi di coniugarsi con quella che è il discorso della cultura con manifestazioni culturali di alto livello dicevo prima di AIMPROZIT è un modo anche questo di far conoscere l'alta cucina ai coloro che amano questa tipologia di prodotti utilizzando le strutture di ristorazione che abbiamo già presenti nella città di Udine grazie per guardare alla Udine del 2030 secondo me dobbiamo cambiare paradigma ovvero abbiamo già avuto la Udine dei grandi eventi del G7 dell'università le grandi mostre citate via discorrendo tutto questo a terra cosa ha lasciato in questi anni ha lasciato una città disorganizzata che ha un declino economico e ha i migliorimenti che se ne vanno da questa città noi dobbiamo cambiare paradigma e ragionare dai luoghi di vita delle persone per fare veramente una città organizzata in maniera tale che le eccellenze che qui ci sono possano maturare e rimanere qui e produrre economie e produrre futuro in questo territorio ne sono nate tante ne ho citate prima alcune quindi non voglio non voglio ripetermi a cui il comune non sta dando l'adeguato sopporto però questo è il paradigma su cui noi vogliamo lavorare per fare dunque una città più inclusiva che porta nel 2030 a questi risultati una città che sa rispondere alle sfide ambientali alle sfide sociali alle sfide economiche attraverso uno spazio di vita inclusivo per i cittadini è che è in grado poi di tenere qui le menti e di produrre risultati economici e risultati di futuro se noi invece pensiamo di agganciarci a una specifica area non di proprietà del comune che rilancia che dovrebbe rilanciare la città o a presunte grandi mostre che dovrebbero rilanciare la città ecco questo è un paradigma che abbiamo già cercato di seguire nel passato e ha già fallito quindi non si percorre quella strada ma si cambia grazie Stefano Salmè Udine il futuro di Udine è riscoprire il suo passato Udine nasce in quella antichissima arteria che si chiamava la via dell'Ambra che univa l'Adriatico con i paesi baltici attraversando tutto il centro Europa quella via che poi adesso al tempo di Romani fu chiamata la via Giulia Gust era una via commerciale e lo è ancora oggi quindi noi dalla nostra geografia dobbiamo scoprire quella che è la nostra missione futura in realtà il ruolo di Aquileia viene ereditato dal porto di Trieste allora noi dobbiamo immaginare in questo corridoio che è un corridoio europeo cioè finanziato dall'Unione Europea il corridoio Adriatico Baltico qual è la funzione di Udine perché lungo questo corridoio che è finanziato dall'Unione Europea passano merci e persone noi dobbiamo riuscire a cucire un nostro ruolo all'interno di questo corridoio europeo quindi tutti i nostri asset dal mercato autofrutticolo all'università alla zona industriale udinese devono essere messi in rete per garantire un futuro anche geopolitico alla nostra città perché quel ruolo vuol dire lavoro quel ruolo vuol dire impresa quindi noi dobbiamo anche riscoprire il senso del nostro orgoglio noi cinque anni fa la città di Udine per la prima volta aveva superato i centomila abitanti sapete quanto siamo arrivati adesso dopo pochi anni siamo poco sopra i novantasettemila abitanti la gente va via da Udine va via da Udine dobbiamo riscoprire anche il nostro orgoglio quindi è una cosa fondamentale questo ruolo grazie avanzato e nel digitale noi dobbiamo immaginare una città che sappia integrare tutta la filiera educativa che è fortissima la filiera della salute che è molto forte tutta la filiera dei professionisti nell'ambito della giustizia nell'ambito della finanza nell'ambito diciamo di tutti quanti i servizi oggi esistenti e quindi dobbiamo immaginare una città del terzoare avanzato il comune in questo ha un ruolo fondamentale perché deve essere un'agenzia di innovazione e deve lavorare insieme a tutte le partecipate dal consorzio industriale a tutte le società dove esprime un ruolo a partire dalla fiera noi abbiamo una grande festa popolare che è Friuli Doc a me piacerebbe arricchirla di una sezione dove la partita la gioca all'università visto che ha una grande facoltà agroalimentare secondo me noi abbiamo in Friuli abbiamo la possibilità di rendere la nostra città Udine una capitale di scienza e cultura del cibo possiamo farlo sarebbe un grande volano per tutto il tema del turismo e per non parlare anche di altre cose di altre vocazioni come quella delle costruzioni ma di questo parleremo un'altra volta dobbiamo puntare alla città del futuro grazie Stefano 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 Salmè si gioca all'ultimo jolly sì perché il professor De Toni parla di città digitale di terziario avanzato sono dei bellissimi titoli però poi non ci spiegano come noi dobbiamo reagire al regresso del nostro commercio il dato il dato c'è dato al commercio 144 imprese commerciali nella nostra città hanno chiuso i battenti allora immaginare queste cose appunto la città digitale sono solo dei titoli vuoti come spesso i politici fanno come dobbiamo reagire perché noi abbiamo migliaia di imprese a Udine di piccole imprese e noi l'abbiamo detto l'abbiamo disegnato abbiamo creato un circuito economico protetto per la piccola impresa con quei buoni spesa locali che di fatto lavorano come una moneta locale quello è un modo di proteggere la piccola impresa riconoscendoli che ha una funzione sociale perché oggi non possiamo far combattere nello stesso campionato come avete fatto voi aprendogli le porte Amazon e la piccola impresa udinese non è giusto grazie Salmè su questa su questa risposta chiede di intervenire con il jolly De Toni prego allora il futuro della città dei servizi avanzati e digitale è un futuro che non vale solo per Udine ma vale per tutte le grandi città europee diciamo del nostro continente se noi vogliamo sostenere il piccolo commercio all'interno della città dobbiamo dare per primo l'esempio cioè il comune deve ridurre gli affitti per i locali abbiamo dei locali prestigiosi che sono chiusi quindi dobbiamo fare intanto dare il buon esempio secondo dobbiamo fare delle politiche fiscali sull'Imu per incentivare l'abbassamento degli affitti che sono oggi uno dei motivi per cui il piccolo commercio non riesce a resistere prima vi ho citato e lo ribadisco ci sono esperienze molto avanzate dove i negozi vengono serviti e i primi disposti a investire sono i grandi distributori bisogna fare dei partenariati perché da soli i piccoli non ce la fanno il comune in prima deve farsi attore e allora siamo arrivati all'appello al voto avete 60 secondi per convincere chi ancora non lo è perché dovrebbe votare per voi e per la vostra coalizione abbiamo corretto e se abbiamo corretto i simboli possiamo mandare le slide anche con i simboli dei partiti in questo caso la sequenza è stata abbiamo sorteggiata prima insieme quindi non corrisponde all'ordine che avete nella scheda elettorale il primo a partire è De Toni bene allora io immagino una città che voglia riacquistare il suo ruolo di capitale del Feriuli ma capitale in senso di caput cioè di testa pensante che pensa non solo a se stessa ma anche il Feriuli Udine ha bisogno del Feriuli e il Feriuli ha bisogno di Udine noi possiamo ridare questo ruolo perché purtroppo in regione pesiamo poco c'è un asse storico ormai negli ultimi cinque anni tra Trieste e Pordenone e noi rischiamo di contare come il due di Coppe quando va a cuori noi dobbiamo immaginare di creare un clima di entusiasmo di mobilitazione di sviluppo dobbiamo stoppare un circolo vizioso di stagnazione l'innovazione non ha una natura ha una storia ha la storia delle persone che realizzano e questa storia vorrei scriverle insieme a voi allora un un minuto per Marchion io voglio voglio riportare al centro dell'attività politica del comune la qualità di vita dei cittadini una politica che non si muove per slogan ma una politica che si muove per risolvere i problemi delle persone e nella concretezza questo è il modo di fare politica che abbiamo portato avanti in questi anni che noi portiamo vogliamo portare in Palazzo d'Aronco in una posizione di governo e quindi sederci attorno ai problemi mettere a disposizione le competenze ascoltare e avere poi il coraggio di decidere ma con un'avventura complessiva di città e di quelli che sono i bisogni ecco questo per noi è veramente un aspetto fondamentale io so che molti vanno a votare in maniera disaffezionata o addirittura non vanno a votare il problema non si risolve disinteressandosi dell'aspetto pubblico e quindi il mio appello è molto forte a tutti i cittadini ma soprattutto a quelli che vivono questo sentimento di sfiducia che capisco possiamo cambiare assieme la città di Udine quindi vota Martio forse mettiamo il minuto siamo pronti ok Fontanini dopo vent'anni che la città di Udine è governata della sinistra da cinque anni questa città ha vissuto una nuova esperienza un'esperienza che ha ridato vitalità al centro storico ha fatto diventare Udine un punto di riferimento sia con la regione che con il governo centrale perché noi i finanziamenti li abbiamo avuti abbiamo avuto tanti soldi non abbiamo aumentato le tasse abbiamo allo stesso tempo diminuito il debito pubblico dimezzato il debito pubblico del comune di Udine questi sono fatti concreti fatti da amministrazione che ha esperienza con gente capace che gente ha dimostrato di fare via Mercato Vecchio è un'opera nostra l'abbiamo fatta noi diventare pedonale lasciate finire il sindaco così come come tante altre iniziative per cortesia l'ex dormi su un'altra realtà che qui a 500 metri da noi diventerà un centro per il Mitz per formare i nuovi studenti grazie beh scusa scusa un attimo allora scusa Salmè prende la parola quando si sono un attimo calmati perché sennò intero ok sì beh è ovvio che il nostro tentativo della lista civica io amo Udi nei liberi elettori è quella di dare un governo civico sganciato dai partiti secondo noi è una nostra opinione c'è un filo comune tra le due amministrazioni Onsella e quelle Fontanini in definitiva non è cambiato molto ed è questa è una delle ragioni per la quale la gente non va più a votare ma accade anche a livello nazionale uno dice ma che cos'è cambiato nulla cioè alla fine il denominatore comune è sempre lo stesso quindi noi abbiamo è un tentativo di dare un governo civico sganciato dal teatrino dei partiti io sto facendo la campagna elettorale nelle periferie guardando in faccia la gente e non facendoli neanche una promessa l'unica promessa che faccio tu mi vedrai per 365 giorni all'anno chiamami pure senza nessuna promessa oggi in campagna elettorale promesse mirabolanti e voi vedrete che cinque anni dopo quelle promesse saranno ancora delle speranze questo accade con i partiti con noi questo cambierà allora io vi ringrazio per esservi sottoposti alle nostre domande per aver chiarito alcuni punti fondamentali del vostro programma è evidente che ce ne sono molti altri però abbiamo scelto di contenere anche perché se no diventa una mattinata troppo impegnativa per tutti e sappiamo che la vostra campagna elettorale prosegue poi nel corso della giornata in altri momenti ringrazio il pubblico che ci ha seguito qui e dicevo prima 1600 persone circa in streaming sul nostro sito vi chiedo una cortesia di portarvi al centro del palco perché così il nostro fotografo può fare una foto e magari anche se vi date una mano facciamo qualche un po' di scena allora ecco facciamo facciamo così mettetevi con il dito così tutti e quattro dai fontanini fontanini anche lei ci serve la foto dai grazie a tutti